La Befana arriva al reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara, consigliere Pignoli oggi davvero dei momenti di grande commozione qui in reparto per la consegna della classica calza. Sì, ho visto alcuni operatori che si sono commossi insieme a me per questo bellissimo gesto, devo ringraziare le due associazioni, i presidenti che sono qui vicino a me, che insieme a me abbiamo collaborato e siamo riusciti a portare un po' di allegria in un reparto dove purtroppo non c'è l'allegria perché ci sono persone, bambini soprattutto che sono malati. Questo è il primo anno, sarà sicuramente mio dovere organizzare anche per gli altri anni a prescindere dall'aspetto politico, qui si fa solo sociale, voi sapete che io politicamente interagisco nell'ambito sempre del sociale e d'aiuto delle persone bisognose, oggi ci siamo sentiti in dovere di aiutare i più piccoli. Avete regalato un sorriso a questi piccoli degenti del reparto? Sì, assolutamente, abbiamo regalato un sorriso, palloncini, caramelle, cioccolate, calze, c'è la Befana, c'è Peppa Pig, ci sono altre persone vestite con le persone che sono più visibili all'interno della televisione per i bambini, per cui sono contentissimi, è una giornata bellissima e sono contento così. Avete fatto felici anche i genitori oggi? Soprattutto i genitori, perché secondo me i caramelle non possono mangiare i bimbi perché non stanno bene, per cui mangeranno i genitori.